Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia, anzi benvenuti per la prima volta ad una serie che vi avevo lungamente promesso ormai quasi un anno fa dedicata alla vita di Napoleone Bonaparte. Questa è una di quelle serie che, lo ammetto, mi fanno un po' tremare i polsi a pensare di iniziarla, un po' perché, ve lo dico già, sarà una serie molto lunga che ci terrà compagnia per tantissimi mercoledì perché ho raccolto tanto materiale e tante cose che vorrei raccontarvi quindi non so neanche ancora adesso fare un progetto di quanto potrebbe diventare lunga. Dall'altra parte è una di quelle serie che mi fanno tremare i polsi perché Napoleone è uno di quei personaggi che tutti conoscono, qualcuno ammira, qualcuno disprezza e così via ma di cui in realtà tutti sappiamo una marea di storie che non sono vere. Perché Napoleone è uno di quei personaggi il cui mito ha quasi scavalcato la realtà in cui leggende, racconti tramandati attraverso i secoli, propaganda positiva o negativa hanno creato un mito intorno al personaggio reale che ad un certo punto l'ha quasi scalzato rendendo talvolta anche difficile andare a ricostruire quella che è la vera storia di un uomo che ebbe una vita comunque incredibile, una di quelle vite che realmente cambiano il mondo intorno a loro una vita che merita veramente tanto tanto spazio per essere raccontata. Il nostro sarà un lavoro di scavo, un lavoro in cui cercheremo di ricostruire grazie alle lettera, ai tanti libri scritti sulla figura di Napoleone, a varie interpretazioni degli storici cercheremo di ricostruire questa figura così affascinante la figura di un generale, la figura di un politico, di un imperatore la figura di un uomo con tutti i suoi problemi e le sue complessità la figura di un essere umano che ha secondo me realmente cambiato il mondo in cui viveva e il mondo che lascerà dopo di lui, dopo la sua sconfitta. La nostra sarà, ripeto, una storia complicata, ma non per questo non sarà affascinante anzi scoprire il mondo intorno a Napoleone forse è tanto bello, tanto affascinante quanto raccontarne le vittorie e le battaglie. E dato che ho deciso che questa serie avrà una nuova tradizione legata solo alla serie su Napoleone cioè quella di introdurre ogni puntata con una sua frase proprio per questo credo che la frase migliore per iniziare questa serie sia proprio una frase legata alla storia storia che Napoleone un giorno disse essere nient'altro che un insieme di menzogne su cui però si è tutti d'accordo. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video o iscrivetevi al nostro canale Whatsapp che trovate in descrizione Sigla e poi iniziamo questo viaggio lungo ma spero interessante nella vita di Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi. La madre di Napoleone Bonaparte si chiamava Maria Letizia Ramolino ed era nata nel 1750 ad Ajaccio era anche lei Corsa come il padre di Napoleone e ovviamente come Napoleone stesso. Veniva da una famiglia appunto il Ramolino che pensate era originaria del nord Italia probabilmente della Lombardia e che circa 250 anni prima della sua nascita si era trasferito, o meglio un ramo di questa famiglia si era trasferito in Corsica che era caduta sotto il dominio genovese e qui aveva iniziato nella città di Ajaccio ad operare proprio per il governo genovese svolgendo vari compiti nell'amministrazione in ambito giudiziario e così via. Lo stesso padre di Maria Letizia era in effetti uno degli amministratori della città e in questo modo provvedeva alla figlia e alla famiglia. In realtà quando aveva solamente sei anni Maria Letizia rimase orfana, morì il padre e la madre l'anno dopo si risposò. E tutto questo secondo molti influenzò molto il carattere di Maria Letizia che per tutta la vita sarà una donna molto dura talvolta anche chiusa, pronta a richiamare i figli anche quando una volta diventati adulti, diventati imperatori, sovrani faranno cose che a lei non piacevano. E secondo alcuni tutto questo deriverà proprio da questo trauma infantile dall'idea che tutto quello che si ha ad un certo punto potesse terminare. Tanto che pensate, quando appunto Napoleone era diventato imperatore altri figli erano diventati re e così via quando qualcuno le chiedeva notizie dei figli così importanti lei rispondeva sempre tutto bene per ora. Ecco, se vogliamo inquadrare un po' questo personaggio di cui Napoleone, diciamolo chiaramente, aveva una venerazione incredibile considerandola praticamente il nucleo della famiglia rispetto al padre di cui tra poco parleremo ecco, se vogliamo inquadrare questa persona ci sono due storie ovviamente successive a quello che racconteremo oggi che sono molto interessanti. La prima è legata al fatto che una volta che Napoleone divente imperatore si decise di dare un piccolo titolo anche alla madre che sarà chiamata Madame R cioè Signora Madre madre dell'imperatore Napoleone Bonaparte Bene, quel piccolo titolo portava con sé anche un appannaggio cioè dei soldi abbastanza sostanzioso un appannaggio che la madre però invece di spendere come tanti altri facevano metteva quasi tutto da parte e quando qualcuno le faceva notare che dopo tutto poteva spendere più soldi perché i suoi figli erano importanti potevano dargli tutto quello che lei volesse lei che passava per essere molto taccagna diceva che invece quei soldi li metteva da parte perché chissà che un giorno i suoi figli non avessero poi avuto bisogno di lei e sarebbero tornati da lei per farsi mantenere insomma, non andò proprio così ma non ci andò molto lontano nella sua previsione un'altra storia interessante che ci mostra anche del rapporto di amore ma, come dire, anche molto rispetto e talvolta di scontro tra Napoleone e la madre avvenne invece quando Napoleone venne incoronato imperatore pensate che la madre si era opposta fino all'ultimo momento al fatto che Napoleone una volta diventato imperatore incoronasse anche la moglie Giuseppina come imperatrice questo perché la madre, Maria Letizia, non amava particolarmente Giuseppina bene, quando Napoleone non cambiò idea nonostante le imposizioni della madre Maria Letizia non si presentò all'incoronazione eppure, se andate a vedere il quadro di Jacques-Louis David beh, Maria Letizia Ramolino in quel quadro c'è perché? Perché Napoleone, dopo l'incoronazione andò dal pittore e gli fece presente che gli storici, o meglio, le persone del futuro non avrebbero compreso la motivazione del fatto per cui la madre non sarebbe dovuto essere lì e quindi il pittore doveva semplicemente aggiungerla come se ci fosse stata e far risultare tutto normale insomma, due personalità Napoleone e la madre molto molto forti sicuramente legate, legatissime fra di loro che però vedremo nel corso della narrazione talvolta arriveranno a scontrarsi Maria Letizia Ramolino era una donna che come lo stesso Napoleone ci racconta di cultura di quella che si fa sui libri ne aveva pochissima, anche perché da bambina non aveva potuto studiare ed era andata in sposa come si faceva all'epoca a 14 anni, l'avevano giusto insegnato a badare la casa eppure era una persona molto 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 intelligente che, ripeto, avrà una grossissima importanza nella vita di Napoleone chi aveva sposato Maria Letizia Ramolino? aveva sposato Carlo Buonaparte che, esattamente come lei apparteneva ad una famiglia della piccola nobilità corsa ma molto piccola siamo diciamo a un livello quasi intermedio tra la borghesia e la nobiltà piccola nobiltà che anche in questo caso svolgeva principalmente compiti amministrativi forse i Buonaparte erano più orientati sul lato della legge fare da avvocati lavorare in ambito giudiziario una piccola nobilità quella dei Buonaparte che come venne ricostruito poi ne parleremo qualche anno dopo originava dalla Toscana addirittura pare che i suoi più antichi antenati nobili lo fossero stati nel 1200 qualche secolo prima intorno al 1500 un ramo, anche in questo caso della famiglia Buonaparte dalla Toscana si era spostato in Corsica si era trasferito da Iaccio e qui aveva iniziato a lavorare per i genovesi insomma, due storie abbastanza simili di piccola nobiltà che li elevava un po' al di sopra del volgo ma non più di tanto ora, quando Napoleone diventerà imperatore alcuni storici cercheranno di riscrivere quest'origine e un po' come succedeva con gli antichi imperatori del terzo secolo se avete seguito la serie di imperatore se gli antichi imperatori romani anche qui cercheranno di trovargli degli antenati illustri addirittura tornando indietro nel tempo fino agli imperatori bizantini di Trebisonda un tentativo che però lo stesso Napoleone derise per tutta la vita anche perché se da una parte non faceva mistero del fatto di far parte di una famiglia che ripeto non era particolarmente nobile non era particolarmente ricca probabilmente tutto questo in qualche modo gli piaceva perché l'idea di essersi fatto da solo di aver raggiunto quello che aveva raggiunto con le sue sole forze in qualche modo gli piaceva e gli dava un certo effetto un certo stile una certa buona visione di sé ad ogni modo Carlo Buonaparte a differenza della moglie era un per di cui era più grande di 4 anni era un personaggio decisamente più leggero per così dire innanzitutto era uno spendaccione tanto che morendo non lascerà grossi soldi alla famiglia ne parleremo dopo era però un uomo molto affascinante affascinava uomini dal punto di vista politico e questo gli pianerà la strada anche lui per lavorare all'interno dell'amministrazione di Agiaccio mi era molto affascinante pare anche verso le donne tanto che il matrimonio con Maria Teresa secondo alcuni era accompagnato anche da tutta una serie di amanti ora negli anni in cui i due si sposarono la Corsica teoricamente faceva parte della Repubblica di Genova Repubblica di Genova che però aveva sempre trattato l'isola praticamente come una colonia a questo in passato ho dedicato una pillola quindi se volete approfondire l'argomento ve la metto in descrizione ve la andate a recuperare nel 1755 però quindi prima che i due si sposassero buona parte della Corsica si era sollevata contro i genovesi e guidata da un uomo chiamato Pasquale Paoli oppure Ubabbu della Patria cioè il padre della patria come dicevano in dialetto corso si era sollevata e aveva progressivamente acquisito la sua autonomia strappando buona parte dell'isola i genovesi che controllavano solo più alcune alcune città e a tutti gli effetti prendendo prendendosi la propria autonomia Paoli che governava da padre padrone tutta l'isola aveva creato un sistema amministrativo a specchio rispetto a quello genovese aveva creato delle università in cui si insegnava in italiano perché in Corsica la lingua più parlata era ovviamente il dialetto corso che è una derivazione del dialetto toscano antico ma la seconda lingua più parlata era l'italiano vuoi anche per la dominazione genovese oltre che per la vicinanza aveva creato un sistema giudiziario insomma aveva creato una specie di controstato alternativo ovviamente non riconosciuto da nessuno al di fuori dell'isola Pasquale Paoli chiedo scusa Carlo Bonaparte aveva iniziato a lavorare proprio per lui di cui era diventato segretario e per cui una volta sposata Maria Letizia Ramolino aveva lasciato la Corsica e per due anni si era trasferito a Roma ufficialmente proprio come diplomatico come ambasciatore della Corsica presso la Santa Sede ora dopo il matrimonio i due avevano già avuto dei figli ma i primi due figli nacquero e morirono poco dopo quindi non riuscirono a raggiungere l'età adulta per due anni Bonaparte Carlo Bonaparte rimarrà a Roma e se ne andrà secondo alcuni perché le cose in Corsica stavano cambiando quindi per tornare a dare una mano a Pasquale Paoli secondo altri perché aveva avuto una liaison d'amore di troppo si era messo insieme ad una donna che era già sposata la cosa aveva creato un certo scandalo il marito probabilmente lo cercava per far valere le sue ragioni e questo lo aveva spinto a tornare in Corsica quale che sia la storia il viaggio in qualche modo aveva portato fortuna alla coppia perché una volta tornato nuovamente Maria Letizia era rimasta incinta e questa volta era riuscita a dare vita al suo primo figlio cioè Giuseppe Bonaparte fratello maggiore di Napoleone come vi dicevo però intanto in Corsica le cose politicamente erano cambiate perché proprio in quel 1768 in cui Carlo Bonaparte lascia Roma e torna ad Agiaccio in Corsica i genovesi lasciano il posto ai francesi come andarono le cose? beh i genovesi dopo anni in cui non riuscivano a prendere a ricatturare l'isola anche perché Pasquale Paolo aveva soldato alcuni mercenari di origine tedesca si erano affidati ai francesi avevano chiesto ai francesi aiuto avevano chiesto ai francesi truppa avevano chiesto ai francesi un prestito un prestito che ovviamente Genova non fu in grado di ripagare e per il quale la Francia ottenne in cambio la Corsica ci sono 1200 discussioni su tutto questo ripeto vi rimando al video di cui in cui ne ho già parlato ad ogni modo i francesi una volta che avevano in mano il dominio della Corsica furono decisamente meno accomodanti e soprattutto più rapidi rispetto ai genovesi in realtà in una prima fase cercarono di accordarsi con una parte della nobilità corsa nominarono un governatore originario dell'isola cercarono di strappare una parte dell'appoggio su cui Pasquale Paoli poteva contare poi rendendosi conto che non ottenevano nulla in questo modo decisero di mandare un esercito sull'isola al comando del conte di V il quale dopo circa un anno di sconte di scaramucce con le forze di Pasquale Paoli nel maggio del 1769 riuscirà a sconfiggerlo nella battaglia di Ponte Nuovo costringendolo a ritirarsi sulle montagne della Corsica insieme a pochi irriducibili e pochi mesi dopo a lasciare la Corsica per fuggire in Inghilterra dove rimarrà per parecchi anni quando Carlo Buonaparte era tornato in Corsica inizialmente aveva ripreso il suo lavoro che era quello di fare il segretario di Pasquale Paoli e aveva seguito Pasquale Paoli insieme alla moglie e al figlioletto Giuseppe appena nato anche quando questi aveva intrapreso il suo scontro con i francesi addirittura continuando ad accompagnare gli insorti anche quando la moglie era rimasta nuovamente in cinto ovviamente con tutte le difficoltà del caso dopo la battaglia di Ponte Nuovo però rendendosi conto che ormai la strada era quella della sconfitta che i francesi avevano vinto decise di fare una scelta molto più pratica tornare ad Agiaccio insieme alla famiglia presentarsi al Conte di Marbeuf che si chiamava che era il governatore della città di Agiaccio e giurare fedeltà ai francesi giurare fedeltà a Luigi XV giurare fedeltà al nuovo governatore della città e in cambio riottenere tutti i suoi ruoli nell'amministrazione locale una scelta che sicuramente lo farà salutare come traditore da buona parte degli indipendentisti a cui era stato legato fino a quel momento una scelta che però avrà un grosso effetto su quella che sarà la vita di Napoleone e così il 15 agosto 1769 mentre si trovava in chiesa Maria Retizia Ramolino sentì che la gravidanza era giunta a termine che il bambino aveva iniziato a muoversi molto di più che erano iniziate le contrazioni e per questo decise di tornare a casa nel piccolo palazzo della famiglia Buonaparte raggiunse una stanza si stese su alcuni tappeti che secondo la leggenda rappresentavano immagini dell'Iliade e dell'Odissea e qui quel 15 agosto 1769 fece nascere un bambino un bambino a cui venne dato un nome poco comune in Corsica di origine toscana e che era già portato da uno zio e da uno dei due fratelli che non erano sopravvissuti un nome che passò alla storia cioè quello di Napoleone Buonaparte Come fu l'infanzia del nostro Napoleone? Beh in realtà è difficile raccontarla perché ovviamente non ci sono giunti particolari documenti ufficiali dell'epoca e tutto quello che sappiamo c'è stato raccontato anni dopo da fonti che erano effettivamente presenti come i suoi fratelli soprattutto Giuseppe il più grande o la madre che raccontò qualcosa dell'infanzia del figlio o da alcuni storici che però forse furono un po' troppo compiacenti nel suo caso potremmo però dire che sia stata un'infanzia abbastanza felice Napoleone aveva un soprannome quello di Rabuglione che letteralmente voleva dire monello ficcanaso insomma doveva essere un bambino abbastanza vivace un bambino che però secondo quanto si racconta era anche un avido lettore fin da giovanissimo infatti aveva iniziato a leggere tutto quello che gli passava sotto il naso lui stesso racconterà di aver letto libri molto importanti già all'età di otto anni e come raccontava la madre molto spesso si chiudeva in una stanza a leggere per ore e ore e ore magari dimenticandosi anche di scendere a scena insomma già un bambino decisamente molto curioso pensate che quando era bambino quando era piccolo appena nato la madre che non poteva allattarlo non avendo nata a sufficienza lo aveva affidato alle cure di una di una baglia che si chiamava Camilla Illari il quale era figlia di un pescatore ovviamente anche lei non particolarmente acculturata ma cui Napoleone rimarrà anche in questo caso legatissimo per tanti anni tanto che una volta diventato imperatore si ricorderà di lei e le farà avere anche in questo caso una piccola quantità di denaro insomma una gioventù una fanciullezza in realtà che probabilmente doveva essere stata abbastanza positiva nonostante pare che la madre fosse un discreto caporal maggiore nel gestire la famiglia tanto che ogni tanto qualche schiaffone a Napoleone glielo dava soprattutto quando si dimostrava forse un po' troppo ruvido nei confronti del resto della famiglia ad esempio si racconta che una volta lo schiaffeggiò pubblicamente dopo che aveva fatto il verso alla nonna comunque anche dal punto di vista economico la situazione non era particolarmente negativa il lavoro del padre l'offriva dava abbastanza denaro i genitori avevano alcune terre alcune che erano già dei Buonaparte altre che erano arrivate insieme al matrimonio e con quelli potevano sfamarsi anche se Carlo Buonaparte come dicevo fu per tutta la vita un grande spendacione e non lascerà moltissimo la famiglia se non dei grandi debiti che cosa parlavano in casa i Buonaparte? beh parlavano dialetto corso ovviamente l'abbiamo detto un dialetto di origine toscana e parlavano in italiano e la stessa sarà la lingua con cui inizialmente Napoleone si approccerà alla scuola inizierà a parlare francese molto tardi tanto da avere in realtà per tutta la vita un pesantissimo accento che porterà molti in Francia inizialmente a deriderlo poi una volta diventato imperatore a chiedersi perché mantenesse un accento così forte anche questo probabilmente simbolo del legame che Napoleone avrà per tutta la vita con la sua la sua isola c'è un'altra curiosità di questi anni cioè qual era il reale cognome della famiglia perché come tutti voi sapete Napoleone che nella prima fase della vita si fermava come Napoleone Buonaparte ad un certo punto iniziò ad utilizzare il nome di Napoleone Buonaparte togliendo la U probabilmente per renderlo un po' più facile da pronunciare ai francesi bene in realtà gli storici hanno ricostruito che il suo cognome variò abbastanza nel corso del tempo ma d'altronde all'epoca non è che ci fosse una grande precisione nelle grafie tanto che il nome Buonaparte senza la U già compare in alcuni documenti quando Napoleone era ancora molto piccolo per un certo periodo poi il padre si era fatto chiamare Carlo di Buonaparte questo per rimarcare le sue origini nobili origini nobili che peraltro grazie al legame con il conte di Marbeuf riuscì a farsi riconoscere andando a scavare in vecchi documenti per dimostrare proprio le origini nobili della sua famiglia anche questo servirà parecchio per Napoleone perché è importante? beh perché nonostante appartenessero a questa piccola nobiltà e non facessero sicuramente la fame la famiglia a buonaparte non aveva però abbastanza soldi per far studiare i figli o meglio li poteva far studiare come aveva studiato Carlo per qualche anno per poter accedere alla stessa carriera fatta dal padre ma sicuramente non poteva sperare di far far loro un salto in avanti nell'amministrazione o nell'esercito fortunatamente in Francia all'epoca esistevano delle borse di studio create dallo Stato o meglio pagate dal sovrano che permettevano ai figli della piccola nobiltà francese di studiare anche in mancanza di denaro la cosa ovviamente serviva per concentrare il potere nelle mani dello Stato e in qualche modo legare ancora di più questa piccola nobiltà allo Stato stesso perché se si studiava in scuole francesi e si diventava ufficiali militari francesi tutto questo ovviamente forniva maggior fedeltà allo Stato per poter ottenere queste borse di studio era necessario innanzitutto essere nobili e lo abbiamo detto tutto questo venne riconosciuto grazie alle ricerche fatte dal padre era necessario non avere abbastanza denaro per potersi pagare da sé la scuola e anche questo ovviamente era il caso dei buona parte ed era necessario saper leggere e scrivere bene in francese e questo invece per Napoleone rappresentava un problema fortunatamente in aiuto della famiglia venne ancora una volta il conte di Marbeuf che diciamolo si interessò molto ai destini della famiglia buona parte tanto che qualcuno mise in giro la voce che fosse l'amante di Maria Letizia Ramolino anzi qualcuno dice addirittura che Napoleone sarebbe stato il figlio illegittimo del conte di Marbeuf tutte delle voci che giravano già all'epoca in cui lui era vivo tanto che lui stesso le smentì più volte perché nonostante diciamolo non apprezzasse tantissimo il padre preferendo sicuramente la madre lo riconosceva appunto come padre peraltro alcuni tratti soprattutto gli occhi sono palesemente passati da padre in figlio ad ogni modo grazie all'aiuto del conte di Marbeuf Napoleone e fratello maggiore Giuseppe poterono spostarsi per quattro mesi a Hottun in Francia dove frequentando un collegio gestito dal vescovo di Hottun che peraltro era un parente proprio del conte di Marbeuf poterono studiare per quattro mesi in francese preparandosi alla scuola cui erano destinati e in questo modo iniziando il percorso scolastico quando i due lasciarono la Corsica e arrivarono ad Hottun era il primo gennaio 1779 Napoleone aveva all'epoca nove anni poco più nove anni e quattro mesi e forse non lo sapeva ancora ma per otto anni non sarebbe mai più tornato in Corsica anzi negli anni successivi avrebbe visto solo due volte la sua famiglia Già a Hottun Napoleone dimostrò due caratteristiche che si porterà dietro per tutto il suo percorso scolastico innanzitutto l'intelligenza perché forse ancora più del fratello riuscirà ad imparare molto rapidamente il francese quello che gli viene insegnato a Hottun dall'altra parte svilupperà ha un carattere molto cupo che lo porterà un po' a separarsi rispetto agli altri allievi non lo rendeva esattamente re della festa per così dire è un carattere che si porterà dietro praticamente per tutta la vita ad ogni modo circa quattro mesi dopo essere arrivati al collegio riuscì finalmente a dimostrare di conoscere abbastanza il francese da poter raggiungere quella che doveva essere la sua vera scuola cioè l'école militaire di Brienne Le Chateau ora a dispetto del nome le col militare non era una vera e propria scuola militare anche perché ricordiamo i ragazzi avevano nove anni quando li entrarono erano relativamente piccoli era una scuola studiata per la piccola media nobiltà a cui accedevano sia alcuni figli di nobili che pagavano la retta sia alcuni dei figli a cui la retta veniva pagata dal sovrano che venivano in qualche modo preparati per la loro carriera che fosse una carriera veramente militare che fosse una carriera nell'amministrazione che fosse addirittura una carriera nella chiesa perché alcuni una volta usciti da lì andavano poi verso cariche ecclesiastiche ovviamente non andavano a fare il parroco di paese ma puntavano a diventare vescovo cardinale e così via la scuola era tutt'altro che facile tutto che facile intanzitutto dal punto di vista fisico perché era gestito da un ordine di fratico una rigidissima regola monastica che veniva imposta ovviamente anche ai ragazzi che prevedeva privazioni del corpo tantissimi giorni di magro addirittura di digiuno prevedeva che i ragazzi dormissero su dei paglierici insomma in condizioni non esattamente ottimali tutto questo anche un po' per forgiare il loro fisico e nel mezzo studiavano tutta una serie di materie studiavano storia geografia matematica francese tedesco studiavano ballo cosa che ovviamente serviva per entrare in società e cosa in cui Napoleone in realtà non si dimostrò particolarmente abile tutt'altro negli anni passati a Brielle Chateau Napoleone manterrà le caratteristiche di cui dicevamo prima continuerà ad essere un lettore avidissimo inizierà ad appassionarsi tantissimo alla storia cosa che già faceva in realtà da bambino ma che Brielle Chateau accedendo ovviamente alla biblioteca del posto riuscirà a nutrire leggerà avidamente storie di eroi antichi leggerà avidamente storie di generali antichi di battaglie di combattimenti e queste storie se le porterà dietro per tutta la vita tanto da consigliare ai suoi sottoposti di leggere quelle storie per ispirarsi per trarre ispirazione appunto giovamento e leggendo leggendo continuerà in parte ad isolarsi da tutti gli altri ragazzi anzi in qualche modo verrà agevolato in questo isolamento dal classico bullismo che c'è a quell'età anche perché Napoleone e il fratello erano tra i pochi corsi presenti nella scuola continuavano ad avere questo accento molto pesante che li faceva trattare quasi come fossero dei barbari e per questo lui veniva costantemente isolato cosa che forse non gli dava neanche così tanto fastidio a questo periodo appartiene uno dei racconti più famosi di questa fase della storia di Napoleone che ci è stato tramandato da un suo compagno di corso che poi ne divenne anche segretario un racconto che però diciamolo chiaramente è probabilmente falso cioè quello della prima battaglia di Napoleone ora si racconta che Napoleone che già all'epoca aveva una grande mente dal punto di vista militare un inverno in cui aveva nevicato particolarmente forte avesse deciso di costruire alcuni fortini alcune piccole fortezze fatte di ghiaccio e neve e secondo alcune storie avrebbe raccolto i suoi compagni più giovani di cui lui faceva parte e utilizzando quei fortini avrebbe attaccato i compagni più grandi quelli che li prendevano in giro riuscendo a respingerli grazie alla sua tattica la cosa avrebbe funzionato così bene e i compagni si sarebbero talmente presi da tutto questo che avrebbero iniziato una serie di battaglie in cui Napoleone alternativamente comandava una volta l'attacco una volta la difesa venendo ovviamente a comandare i suoi compagni e vincendo sistematicamente tutte le battaglie ora questa storia è abbastanza inverosimile anche perché parla di due settimane in interrotte di battaglie ora mi chiedo che cosa facessero in quella scuola esattamente ed è inverosimile perché ripeto tutte le altre fonti ci parlano di un Napoleone molto chiuso poco legato ai compagni insomma non sembra così veritiera però devo dire che quantomeno è affascinante Napoleone svilupperà anche due altre grandi passioni la prima era quella per il suo popolo per i corsi per la sua isola la corsica una passione che da una parte nutrirà leggendo tantissimo anche su questo argomento cercando autori che ne avessero parlato continuando a vagheggiare l'idea dell'indipendentismo corso l'idea di una corsica indipendente in questo periodo più i suoi compagni lo prendevano in giro per la sua origine più lo prendevano in giro per il suo accento più lui sognava che un giorno la corsica avrebbe cacciato i francesi e la cosa sembra strana se ci pensate che stava studiando in una scuola francese pagata dal sovrano francese sappiamo tutto questo anche pensate grazie ad un disegno fatto da un suo compagno proprio mentre i due frequentavano la scuola in cui si vede Napoleone che declama le lodi di Pasquale Paoli che mentre viene quasi fermato da un da un insegnante proprio un po' a prendere in giro questa sua passione per la corsica di questo peraltro parleremo meglio nella prossima puntata però ricordatevelo perché è un argomento molto interessante la seconda passione o meglio la materia in cui riusciva meglio tra tutte quelle che studiava e vi dico subito che il ballo e il tedesco erano quelle che gli riuscivano peggio la materia che invece gli riusciva meglio era la matematica in cui pare che fosse molto molto bravo e in cui si applicava tanto quanto si applicava nella storia e nella geografia insomma aveva già le materie che in effetti influenzeranno tutta la sua vita la cosa ci viene raccontata pensate anche da un ispettore reale il quale periodicamente si recava in queste scuole per valutare i giovani capire quale potesse essere il loro destino il quale ci dà un brevissimo ritratto di un Napoleone di 14 anni parlando di un ragazzo alto 1,60 di carattere gentile corretto ordinato preciso molto bravo in matematica per il quale pensate l'ispettore reale consigliava una futura carriera in Marina ora provate a immaginarvi Napoleone Bonaparte ammiraglio di Marina che si scontra contro Nelson sarebbe stata una storia veramente bellissima come sapete tutti però le cose non andarono così anche perché da bravo studente di matematica Napoleone aveva anche un'altra strada che si poteva aprire per lui forse un po' più complicata ma non per questo meno affascinante cioè quella dell'artiglieria un'arma che non era più tanto moderna si usava ovviamente ormai da alcuni secoli ma che era sempre più importante un'arma in cui peraltro a differenza della cavalleria e della fanteria l'origine cioè se uno era nobile e quanto era nobile e ricco aveva un po' meno importanza nella possibilità di far carriera un'arma che avrebbe potuto rappresentare uno sbocco per Napoleone e così finita la scuola nel 1784 decide di provare l'esame per entrare realmente alla scuola militare reale e lo passa nonostante l'esame fosse abbastanza difficile su 220 cadetti in tutta la Francia lo passarono solamente 136 Napoleone riuscì a passarlo non solo ma con dei voti abbastanza buoni per accedere proprio alla scuola di artiglieria che di cadetti ne prendeva solamente 17 ogni anno e pensate che lui era il primo cadetto corso ad entrare a quella scuola e così il 17 settembre 1784 entrò ufficialmente a Parigi all'Ecole Militaire Royale a Parigi in realtà ci vivrà per un anno e diciamolo come lui stesso raccontò la città non la vide esattamente tanto anche perché aveva ovviamente i soldi che arrivavano dalla borsa di studio ma quelli gli servivano per vivere e studiare e gli rimaneva ben poco da spendere nel resto della città ma nell'anno in cui rimase alla scuola studiò e continuò a studiare in maniera molto molto avida continuò a studiare storie continuò a studiare geografia migliorò un pochettino nel suo tedesco non migliorò nel suo latino e meno male che non voleva fare il prete iniziò a studiare tutta una serie di trattati militari tra cui uno di quelli che lo influenzò maggiormente fu di Jacques Conte di Ghibert che insieme al padre che aveva seguito nelle sue campagne militari aveva vissuto la guerra dei sette anni l'ultimo grande conflitto combattuto in Europa peraltro perso dalla Francia e da quello che aveva visto e poi imparato negli anni successivi viaggiando per l'Europa aveva teorizzato l'idea di un nuovo stile di combattimento un nuovo stile per creare gli eserciti che prevedesse dei grandi eserciti nazionali che non dovevano rimanere pronti in ogni momento ma dovevano essere richiamati solo al momento giusto in modo anche da pesare meno sulle finanze dello Stato ed utilizzate in brevi e feroci campagne che permettessero di vincere molto rapidamente la guerra annientando il nemico non portandosi dietro tonnellate tonnellate di vivere rifornimenti ma nutrendosi di quello che forniva loro il territorio ovviamente razziando dalle popolazioni che venivano attraversate per muoversi più velocemente tutte teorie che poi Napoleone nelle sue campagne metterà in pratica fin troppo bene questo periodo probabilmente abbastanza felice terminò il 24 febbraio 1785 quando il padre Carlo morì era stata una morte abbastanza improvvisa causata da una malattia che per alcuni era un tumore allo stomaco per altri un'ulcera perforata malattia che aveva spinto Carlo a viaggiare in Francia fino a Montpellier per cercare una cura anche perché i dottori in Corsica pare che gli avessero consigliato di mangiare delle pere e vi dico non so in che modo potesse influire la cosa anzi le pere sono anche forse un po' acide avesse avuto un'ulcera gliela perforavano gliela peggioravano ulteriormente ad ogni modo ovviamente le cure non funzionavano e alla giovanissima età di 38 anni Carlo Buonaparte morì la cosa colpì molto Napoleone lo colpì ovviamente nel suo intimo era morto suo padre forse non era l'uomo che apprezzava più al mondo ma rimaneva comunque suo padre lo aveva colpito il fatto che fosse morto lontano dalla Corsica quasi fosse stato un esule lontano dalla famiglia colpì però anche Napoleone dal punto di vista economico perché come vi dicevo Carlo Napoleone non aveva lasciato esattamente la famiglia in ricchezza anzi aveva lasciato dei debiti frutto di dell'abitudine allo sperpero frutto peraltro di una serie di cause che aveva intentato con i suoi vicini per questioni di terre denaro che ovviamente mancava e che costringeva la famiglia a tirare parecchio la cinghia venendo salvato almeno in un primo tempo da uno zio che si chiamava Luciano e che faceva il prelato era prete in Corsica e che aiuterà la famiglia lasciandogli poi dei possedimenti alla sua morte nel 1791 la cosa ovviamente rimbalzò anche su Napoleone che a questo punto chiese ai suoi istruttori ai suoi maestri di poter accorciare il suo periodo nell'accademia passando invece dei due tre anni previsti di scuola ad appena un anno perché beh ovviamente per poter uscire prima dall'accademia poter prima entrare nell'esercito e poter prima avere uno stipendio con cui mantenere la famiglia anche perché alla morte del padre anche se non era lui il fratello più grande Giuseppe era più grande di lui divenne molto rapidamente il capo famiglia lo racconteremo nella prossima puntata ma sarà lui ad occuparsi della famiglia sarà lui a cercare di risolvere vari problemi della famiglia forse anche per una questione di carattere rispetto al fratello che era molto più accomodante molto più tranquillo e appunto sarà lui a sostituire il padre come guida della famiglia buona parte i suoi insegnanti accettarono e così dopo appena un anno di studi sostenendo l'esame e passandolo come quarantaquattresimo su cinquantotto del suo corso che diciamolo può sembrare un risultato scarso ma ricordiamoci che lui aveva fatto solo un anno di scuola rispetto ai due tre degli altri uscendo come quarantaquattresimo del suo corso Napoleone riuscì a diplomarsi e ottenne il suo primo incarico come ufficiale di artiglieria al reggimento Laferre distanza a Valance lungo il Rodano e così insieme ad un compagno di corso lasciò la scuola in alcuni giorni abbandonò Parigi si spostò verso Valance che raggiunse il 5 novembre per strada sperperò quei pochi risparmi che aveva ancora da parte ma bisognava quantomeno un po' festeggiare la fine di questo lungo periodo scolastico e il 5 novembre raggiunta Laferre Napoleone bambino Napoleone ragazzo lasciarono il posto a Napoleone uomo perché prendendo per la prima volta servizio in ambito militare Napoleone entrava in un mondo che non avrebbe abbandonato per tutta la vita beh ci entrava più o meno perché una delle prime cose che fece come nuovo ufficiale fu quello di chiedere un congedo un congedo abbastanza lungo da permettere di tornare in Corsica ma di tutto questo parleremo nella prossima puntata io intanto mi fermo qua ve l'ho detto sarà una serie lunga perché c'è veramente tantissime tantissime cose da raccontare su Napoleone ma spero che la cosa vi possa in qualche modo piacere un grandissimo ringraziamento a chi avrà voglia di seguirmi in questa avventura un grandissimo ringraziamento come sempre ad abbonati Patreon e a chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti il ringraziamento di oggi è particolare perché va al professor Giorgio Larosa del cui corso universitario sono già stato ospite due anni e che ringrazio tantissimo di questo ringrazio anche perché sostiene il canale quindi grazie mille e per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con la nuova pidola di storia ci vediamo mercoledì prossimo per andare avanti con la storia di Napoleone a presto ciao ciao